Abiti da fiaba che raccontano il mare e i suoi abitanti, con le modelle chiamate a portare in passerella lo spirito della sicilinità. Si è chiusa così la tre giorni sambitese di Tempuri Capuna Premio Saturno, con una sfilata spettacolo nata da un'idea di Katia Morello per le creazioni della stilista Mari Castano. Una chiusura suggestiva ed originale per una manifestazione doppia che ha messo insieme le eccellenze gastronomiche e quelle produttive del nostro territorio. Cooking show degli chef sambitesi a base di pesce azzurro e le immancabili e frequentatissime degustazioni sono state il leitmotiv di questo fine settimana. Tra gli altri le sorelle Abrignani e Peppe Giuffre hanno dato spettacolo giocando e viziando il gusto dei presenti. In scaletta anche diversi talk show, tutti improntati ovviamente al mare. Al calar della sera poi è stata la statuetta di Saturno a rubare la scena. Il premio sabato è andato a quattro eccellenti realtà produttive dell'Interland. Ad essere premiati sono stati il Capitano Tramati per la sua lunghissima esperienza in mare che lo ha portato a collaborare alla definizione di numerose tecniche di pesca diffuse oggi in tutto il Mediterraneo. La Trapani Field Commission per il grande lavoro di promozione territoriale svolto attraverso la realizzazione di diverse produzioni cinematografiche nella nostra provincia. E ancora l'Agri Pesca Sicilia per il lavoro di tutela dell'agricoltura e della pesca in tutta Italia ed in Sicilia in particolare. Ed in ultimo, ma non ultimo, Momo Battaglia, un'icona a San Vito Lo Capo. Un pescatore che con i suoi 89 anni è depositario delle arti piscatorie e delle storie che le raccontano. Un'esperienza che Momo ha maturato cominciando ad andare per mare a soli 12 anni. Insomma, Tempuri Capuna e Premio Saturno hanno colorato questi tre giorni di fine stagione a San Vito deliziando i tanti turisti ancora presenti e non solo e dandoci appuntamento al prossimo anno.